Allo showroom Murrina Classica Veneziana, sconti del 40 e del 50%? Vieni presso il nostro punto vendita, in via Matteotti 4042 ad Avellino. E molti si sono preoccupati per l'assenza del nostro meteo pep, eccolo in tutto il suo splendore, il nostro colonnello ovviamente esperto in meteorologia che fornirà proprio in anticipo rispetto al riavvio dell'ottovolante, giusto un flash sulle previsioni. Le previsioni parlano che domani ci sarà maltempo, maltempo che è abbastanza intenso e poi anche nella giornata di lunedì piove, poi tra martedì, mercoledì, ciovedì il tempo tende a migliorare perché c'è una nuova perturbazione in arrivo che porta prima a pioce al centro-nord, al nord poi al centro e poi al sud. Intanto la vediamo veramente tutto al verde? Tutto al verde, per le nostre, io faccio tutto per le nostre. Questi sono i colori proprio sociali. Sono i colori sociali, eccoli qua. Ovviamente torneremo a breve con l'ottovolante, il colonnello sarà una delle colonne. Una delle colonne dell'ottovolante, sono felice di lanciarlo, dicendo a tutta la popolazione che è entrata nella nuova puntata dell'ottovolante. E ci saranno delle sorprese, delle ottime cose. Comunque c'è anche tanto divertimento. E ci sarà anche questo, a me dopo è la risurrezione. La risurrezione. E' una cosa che l'ho pentata io. Bene, allora a presto con l'ottovolante, grazie per la previsione, però dobbiamo chiudere con una sigletta, insomma, per la nostra rubrica cosa possiamo inventarci. Quella che hai pentato? Sotto il sole, sotto il sole, arriccione, arriccione, sotto il sole, sotto il sole, arriccione, arriccione. Ok, alla Casa Dei, però va bene. Io saluto la redazione, anzi di mica, un saluto a Cade e da altre borda. Ciao, ciao. Ci sentiamo al prossimo per la previsione.